Buongiorno a tutti e bentrovati nel mio canale. Siete parecchi che mi avete chiesto a proposito del fornetto magico e come mai non avevo più pubblicato video. In realtà non ho potuto perché ho dei periodi particolarmente intensi. Comunque oggi vi voglio mostrare un video in cui decorerò questi che poi diventeranno un paio di orecchini. Rappresentano il fico d'India. Questi sono stati realizzati in agilla bianca modellati a mano e sono stati cotti sempre nel fornetto magico. Adesso verranno colorati, bagnati nella cristallina perché vengono colorati con dei colori definiti sotto cristallina perché appunto vengono fatti prima di metterli a bagno nella cristallina. La cristallina, come molte volte vi ho spiegato, è una miscela a base di sostanze vetrose che una volta infornata diventerà lucida dando la caratteristica appunto della ceramica. Passiamo direttamente alla colorazione e poi alla cottura nel fornetto magico. Io vi saluto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, se avete delle domande non esitate a contattarmi sarò ben felice di rispondervi. Chi fosse interessato all'acquisto del fornetto magico mi contatti nell'email che trovate in descrizione o su facebook ed io vi darò tutte le indicazioni. Un saluto a tutti da Arti Allegra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.